In mezzo alla natura, in questo splendido scenario delle Dolomiti Venete, per parlare di pulizia e manutenzione del parquet, con un prodotto veramente semplice, semplice anche nel nome, Pulito Parquet, di Tover, un detergente con pH neutro, fatto con ingredienti naturali, sicuro per l'ambiente e per le persone che lo utilizzano. Non rilascia sostanze nocive dopo l'utilizzo, questo è molto importante, può essere usato in ambiente residenziale e in ambiente commerciale. Il prodotto va molto bene per i parquet trattati a vernice, a olio e a cera, quindi non ci sono limiti nell'utilizzo. Ha un inconfondibile colore blu, è arricchito con cere che ravvivono e allo stesso tempo proteggono e nutrono il parquet. Il prodotto Pulito Parquet è reperibile facilmente sul mercato, è disponibile sui principali siti di e-commerce, è disponibile fisicamente dai nostri rivenditori sparsi sul territorio nazionale, gli stessi rivenditori hanno i loro siti e-commerce dove vendono e spediscono il prodotto, è anche disponibile sui principali siti di e-commerce, quelli più famosi, tutti conosciamo. Pulito Parquet è disponibile nel nuovo flacone in plastica riciclata con l'innovativo tappino salvagoccia. Pulito Parquet una volta utilizzato rilascia un aroma, una fragranza, proprio perché è fatto con estratti naturali, molto piacevole dopo l'utilizzo, dà veramente una piacevole sensazione di freschezza. Io lo sto testando personalmente sul parquet di casa mia, si può applicare come nel nostro caso con la Cinderella, abbiamo preso il contenitore della Cinderella, abbiamo applicato un tappino e in alternativa si può usare con un normalissimo mocio o con un mop. Noi nella Cinderella abbiamo messo un tappino, se si usa con un mocio 5 litri d'acqua con 3 tappini, se lo sporco è eccessivo si possono usare anche 4 o 5, fino a un massimo di 5 tappini. È corredato da una scheda tecnica, è un prodotto per uso professionale, la scheda tecnica si può facilmente scaricare dal sito della Tover, è disponibile per tutti. Una volta terminato il lavaggio col pulito parquet, si può applicare, a discrezione degli utenti, la cera Lux, che è disponibile Lux e Lux Mat. La cera è un ravvivante, un rigenerante e anche un nutriente del parquet e si può quindi utilizzare pulito parquet con Lux, sempre prodotti da Tover. Il parquet che vedete nelle immagini è casa mia, l'ho realizzato io personalmente due anni fa, sempre con un prodotto naturale che si chiama Natural Wood Oil. Natural Wood Oil è un prodotto di Tover che si applica con rullo, come una vernice, per chi vuole maggiori informazioni metto il link sopra del video che ho realizzato io personalmente dell'applicazione del Natural Wood Oil. Se vi piace il mio video e questi nostri approfondimenti tecnici sui prodotti, potete iscrivervi al canale Parti Experience.